oh no vabbè ma li ha distrutto la macchina quella pecora se vuoi essere salutato in un mio prossimo video ascolta me metti mi piace a questo video e commentalo iscriviti al mio canale e clicca sulla campanella delle notifiche per non perderti nessun mio video ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video io sono il mister Brené e oggi ragazzi siamo qui con una nuovissima reaction dove andremo a vedere degli animali che attaccano le macchine che vanno nei safari spero che tutti voi almeno una volta avrete fatto un safari adesso non è che si fanno così tanto però io una volta da piccolo sono anche andato comunque ragazzi scusate per la mia voce però con questo freddo andate un po' via la voce però spero che vi piaccia lo stesso questo video comunque se vi piacerà questo video mettete un bel like commentate con un hashtag salutemi se volete salutare il mio prossimo video oggi facciamo in una maniera un po' diversa i saluti infatti li facciamo direttamente in live praticamente ok ragazzi spero che stia registrando dal telefono comunque saluto il pochettaro grazie mille per il complimento e anche fra dj che mi scrive hashtag salutemi grazie mille ragazzi e spero che questi saluti vi facciano piacere comunque adesso ragazzi io vi mando subito alla reaction allora qua ci sono dei bufali tipo che intralciano tutto il passaggio però madonna che bestia enorme oh mio dio raga un elefante no vabbè ma cioè sta distruggendo la moto di di una persona invece qua tigre con la neve questa mia nuova onestamente non l'ho mai vista però vabbè comunque ma quanti sono sono tre tre sei tre nove uno die mamma mia raga dieci tigri oh mio dio sto elefante madonna mi sta iniziando a correre oh madonna ma questi sono fuori sono fuori di testa oh vabbè raga questo cos'è questo è un no li ha rotto lo specchietto questo cos'è un capro non lo so invece questo cos'è no vabbè un orso raga oh madonna no li ha rotto lo specchietto anche qua oh mio mio qua è sempre un un caprone non so cosa sono promizio che ci dà le corne allucinanti qua c'è un leone mamma mia che ma che cavolo ho preso un pezzo di macchina vorrebbe entrare però e qua che cavolo è sto cosa non un ipopotamo no vabbè anche qua un ipopotamo mamma mia raga sti popolo mamma mia quella vedo bruttissima sta macchina ma no ma che fa mi dice che se è grosso sto cosa beh che schifo i serpenti madonna comunque è veramente enorme mamma mia mi dice che cos'è qua che schifo cos'è 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 cos'era madonna che schifo cos'è un serpente no no qua è una giraffa entrata dentro la oh mio dio invece lì cos'è scimmia 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 e scimmia 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 sono cattive alcune perché ti rubano le cose guizzica come un cervo mi pare che si chiama così adu vizzica c'è la cora che sono un casino resistente mamma mia quale pecora vizzica no vabbè ma li ha distrutto la macchina con la pecora buh qua c'è un leone uh mamma mia aia vizzica vediamo un po' cosa fa questo leone vizzica un hashtag saluto se potete salutare nel mio prossimo video condividete con tutti i vostri amici e fateli iscrivere e ovviamente se non siete già iscritti iscrivetevi pure voi da Mr.Brenny dovete Grazie a tutti.